701 i nuclei familiari in lista per una casa popolare di cui 540 stranieri, una minima parte dunque richiedenti di casa nostra che però pare risultino essere gli ultimi della lista. Il perché non è molto chiaro, soprattutto gli esponenti della Lega che ne hanno chiesto conto a chi di dovere. Il segretario cittadino della Lega Nord Pietro Burgazzi è in attesa degli ultimi dati sulla presenza di stranieri nelle case popolari di tutti i quartieri cittadini, sia per quanto riguarda gli alloggi di proprietà comunali sia per quelli di competenza Haller, ma nel frattempo si fa portavoce di una situazione al limite della sopportazione e di un meccanismo che se non va cambiato va quantomeno sistemato. Innanzitutto io ho chiesto prima l'assegnazione della graduatoria per vedere appunto, per sondare un po' la situazione cremonese come come era a livello abitativo. A livello abitativo abbiamo visto che ci sono delle grandi discrepanze tra cremonesi e stracomunitari perché basta guardare la graduatoria che su 701 domande di assegnazione 170 sono cremonesi e 540 sono estracomunitari. Oltre questo c'è il fatto che ci sono 200 appartamenti sfitti e non si sa per quale motivo siano ancora sfitti, dicono perché alcuni sono in fase di strutturazione, alcuni sono sotto la tutela del tribunale, però la situazione non si sblocca. Ovviamente c'è un altro problema di tanti estracomunitari che sono ritornati al loro paese e le case le hanno ancora assegnate, quello che la legge prevede che dopo un anno dovrebbero essere liberati ma questo non avviene mai e i cremonesi si ritrovano come sempre negli ultimi posti di graduatoria con grossi problemi a livello proprio abitativo. Io in sede purtroppo ho ricevuto persone in situazioni quasi tragiche, si sono recate presso gli sportelli del comune per chiedere aiuto e purtroppo si sono sentiti rispondere picche.